Buongiorno a tutti, è la prima volta che parlo in pubblico, quindi saluto. Molti di voi qua mi conoscono come la dottoressa Monticone, nonché la sostituta del candidato Angelino Mori. Io un giorno di dicembre sono entrata in studio lavorando e Mariella mi dice c'è bisogno di sostegno perché Angelo si cambia da sindaco e penso che la mia avventura si è iniziata un po' più da quel momento lì in avanti. All'inizio non ero molto coinvolta, devo dire la verità, quindi il mio primo pensiero era va bene, io mando avanti l'ambulatorio così come va e nel frattempo sostengo dalle basse vie il candidato sindaco. Dopodiché ho iniziato a partecipare a qualche attività, qualche manifestazione, qualche iniziativa e ho capito che questa cosa tutto sommato della politica non era poi così male. Grazie.